Via libera anche dalla seconda commissione al disegno di legge dell'Aggiunta che propone l'istituzione dell'ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche della Basilicata. Il provvedimento, licenziato con parere favorevole a maggioranza, passa ora al vaglio del Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. Il nuovo ente si dovrebbe occupare di coordinamento, alta vigilanza, programmazione e indirizzo in materia di uso della risorsa idrica, ma dovrà anche rilevare le funzioni delle autorità d'ambito operanti in materia di idrico e rifiuti e recentemente sciolte per legge. Sempre a maggioranza, la commissione ha inoltre approvato il disegno di legge che detta le nuove norme relative agli interventi regionali per la prevenzione e la lotta dei fenomeni usurai e distorsivi. Nell'ottica del rapporto di sussidiarietà e complementarietà, la Regione Basilicata affiderà la gestione dei fondi agli organismi operanti sul territorio attraverso lo strumento delle convenzioni regionali. Anche questo provvedimento passa ora all'esame dell'Aula.